Cari genitori, buongiorno. Sono Luca Monti, un orientatore con esperienza di 23 anni nell'orientamento scolastico. Volevo presentarvi due servizi che abbiamo realizzato per quel difficile compito che abbiamo noi genitori di affiancare i figli nella scelta della scuola superiore. Per affrontare questo tema della scelta abbiamo predisposto una guida per la scelta della scuola superiore che affronta tutti i temi principali e il rapporto che dobbiamo tenere con i nostri figli rispetto a questo momento importante. Oltre a questo abbiamo realizzato un questionario che può essere compilato online, richiede un po' di tempo ai vostri figli e essendo un questionario è pensato per fare una riflessione partendo dalle risposte per cercare di comprendere quali sono le indicazioni principali poi per raccogliere informazioni sulle scuole e sugli indirizzi che vanno bene per vostri figli. Oltre alla guida e al questionario abbiamo pensato anche a un seminario online di un'ora durante il quale affronteremo questi temi principali della scelta dal punto di vista del genitore. Arrivederci e grazie della vostra attenzione. Grazie a tutti.